Video non programmato, che però è necessario dopo che la decisione del Ministro della Salute mi ha di fatto triggerato come quando guardo il report su Rai 3. Il cannabidiolo, conosciuto come CBD, è l'unico principio attivo presente nella maggior parte della cosiddetta cannabis light. È stato inserito tra le sostanze stupefacenti con un decreto dal Ministro della Salute Roberto Speranza nell'ultima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2020. Ora, prendo fiato, devo farlo per cercare di mantenere un minimo di pacatezza. Purtroppo il discorso è molto, molto complicato e inizia all'incirca 5 anni fa, dove da una legge italiana si apre uno spiraglio alla commercializzazione della cannabis che però abbia il THC, lo psicotopo allucinogeno, al di sotto dello 0,4%. Nulla però pone il freno alla percentuale di CBD, che ha invece un potere antinfiammatorio, antidolorifico, mio-rilassante, cioè allenta la tensione muscolare, il tutto senza creare dipendenza. Iniziano quindi a crescere sul territorio piccole attività indipendenti, dei dispensari, che rimanendo in questa zona grigia offrono alle persone con problemi cronici un prodotto con un principio attivo molto allettante, essendo naturale e senza effetti collaterali. Una delle prime e più note aziende, la Easy Joint, inizia a premere sui vari governi per ottenere una legge che garantisca e chiarisca la legalità e la libertà di questa attività. Ovviamente scoppiano le polemiche da parte di quei politici conservatori e le pratiche giuridiche si sprecano, ma senza troppi concreti risultati e, come sempre succede in Italia, la zona grigia diventa consuetudine e tutto si sedimenta lì, lasciando crescere il mercato. Da notare che questo mercato legale ha fatto crollare quello illegale di uso di marijuana che presenta THC alto e certamente non ottimali controlli sanitari sul prodotto, che bene o male sono invece migliori presso questi dispensari. Passano gli anni e arriviamo ad oggi. Speranza, il ministro PD di questo secondo governo Conte, inserisce il CBD nella tabella dei medicinali, rendendolo quindi non più di libera vendita. Tutto dovuto al fatto che un'azienda farmaceutica ha sottoposto un farmaco con il CBD come principio attivo al vaglio dell'AIFA per la messa in vendita sul territorio nazionale. Un cavillo tecnico che fa quindi crollare questo castello di carta costruito sulla zona grigia legislativa che nessun governo ha voluto rischiare di toccare per motivi prettamente politici. Io conosco personalmente una persona che ha lavorato in questi anni per poter creare un consorzio di agricoltori per poter coltivare questa cannabis senza THC e venderla alle case farmaceutiche, ma dopo mesi e mesi di incontri con differenti ministri della salute nessuno voleva prendersi la briga di mandare avanti e chiarire questa situazione. Ora, grazie a questo immobilismo, ci troviamo davanti ad un migliaio di attività sul suolo nazionale che saranno costretti a chiudere da un giorno all'altro, che si ritroveranno anche in magazzini pieni di materiale divenuto illegale da un giorno all'altro, ma che avranno comunque sempre pagato le tasse, contribuito a ridurre la richiesta di marijuana illegale e aiutato malati cronici che in farmacia non trovavano i CBD ed erano costretti ad usare oppioidi o altri farmaci molto più potenti che rischiano di fare molti più danni sul loro fisico di quanto la cannabis senza THC e con alto CBD non faccia. Io vorrei fare un applauso a questo governo Conte Bis e a tutti quelli che lo hanno preceduto per non aver fatto nulla di nulla a riguardo. Probabilmente ringraziano anche le case farmaceutiche e gli spacciatori. Grazie, grazie, grazie mille. Video polemico, ma fortunatamente molto rapido. Ogni tanto ci sta anche. Mi raccomando, mettete mi piace, condividete e commentate facendomi sapere che ne pensate. Alla prossima, ciao! 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 Grazie a tutti.